Torni ad attualità l'inchiesta sul Marina Jotin. La Medova, azionista di maggioranza dell'apporto storico, ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione del magistrato. Secondo dei tre giorni di sciopero dei dipendenti della GTC, anche oggi i gruisti hanno incrociato le braccia per le ultime mosse della Traiana, socia al 90% della GTC. Più donne che uomini, per ponderanza di persone di mezza età e l'identikit di quanti hanno finora effettuato un tampone rapido presso il centro diagnostico Buonarroti. L'ASL supera i 4.000 vaccinati all'interno del proprio territorio. Di questi, 1.000 sono di Civitavecchia. Intanto prosegue il nostro tour in città per conoscere le opinioni dei cittadini. Riunione nei giorni scorsi tra il presidente della FIP Petrucci e i comitati regionali. Deadline per la partenza del campionato di Serie C Gold fissato per il 7 marzo. La Stemar attende. Buonasera e bentrovati. Iniziamo subito dunque con le notizie della cronaca. Medov, l'agenzia marittima che ieri ha cantato vittoria per la sentenza del Tar del Lazio riguardo il navettamento dei croceristi, prosegue la sua offensiva nei confronti dell'autorità portuale e di Port Mobility. Si apprende infatti che i legali della società hanno presentato opposizione rispetto alla richiesta di archiviazione che lo stesso pubblico ministero aveva presentato sull'inchiesta del Marina Yachting. Vediamo. Potrebbe esserci un nuovo rinvio nell'iter relativo all'affidamento dei lavori per la realizzazione del Marina Yachting. Uno dei progetti maggiormente attesi in funzione di un possibile sviluppo delle attività nel porto storico e che si è bloccato da oltre un anno in conseguenza di un'inchiesta giudiziaria. Alla luce della richiesta di archiviazione avanzata al GIP direttamente dal pubblico ministero, il sostituto procuratore della Repubblica Alessandro Gentile, per il prossimo 15 gennaio il sindaco Ernesto Tedesco ha infatti convocato nuovamente la conferenza di servizi per il definitivo via libera all'opera. Ma solo ora si viene a sapere che la Medov, l'agenzia marittima che proprio ieri ha cantato vittoria per una sentenza del Tara relativamente al navettamento dei croceristi, ha presentato opposizione rispetto alla richiesta di archiviazione formulata dal magistrato inquirente. La Medov è coinvolta nella vicenda in quanto azionista di maggioranza della Porto Storico, altra società interessata alla realizzazione del Marina Yachting per il quale l'intero iter seguito dal comune per arrivare alla conferenza di di servizi deve considerarsi illegittimo. A presentare l'opposizione per conto della Porto Storico rispetto alla richiesta di archiviazione è stato lo studio legale Giudetti di Latina e il massimo esponente di Medov e della Porto Storico, Massimo Mensurati, non nasconde il suo ottimismo, parlando tra l'altro di circa 2000 pagine di interessantissime intercettazioni che si trovano depositate presso la caserma Bruzzesi della Guardia di Finanza di Civita Vecchia. Intercettazioni che a quanto pare vedrebbero protagonisti soggetti operanti a vario titolo all'interno del porto e che farebbero emergere tra l'altro particolari legami col mondo politico, sindacale e dell'informazione. Proprio il blitz della Guardia di Finanza avvenuto nel novembre del 2019 suscitò particolare clamore e non ha finora avuto smentita la notizia in base alla quale le fiamme gialle sembra fossero sul punto di far scattare alcuni arresti. Rimaniamo in tema del porto. L'autorità portuale prende atto della sentenza del Tar su ricorso avanzato dalla Medov e nel contempo con i propri uffici sta analizzando anche per procedere ad appellarsi nei tempi e nei modi garantiti dalla legge. È l'attacco di una stringata nota emessa da Molo Vespucci dopo che la società Medov ha annunciato che il Tar del Lazio, accogliendo il suo ricorso, ha annullato l'ordinanza del novembre 2019 con la quale l'autorità portuale aveva riaffidato in esclusiva a Port Mobility il servizio di innavettamento dei turisti. L'autorità portuale sottolinea di aver sempre agito legittimamente tutelando al massimo l'interesse del bene pubblico e soprattutto di aver sempre lavorato in un'ottica di trasparenza e competenza salvaguardando tutti gli operatori che lavorano nel porto. Rimaniamo sempre sullo stesso tema, seconda delle tre giornate di sciopero, questa volta però cambia il soggetto da parte dei dipendenti della GTC. Anche oggi nelle prime tre ore di ogni turno lavorativo i gruisti hanno incrociato le braccia, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la decisione da parte della società traiana, socia al 90% della GTG, è quella di utilizzare i propri uomini e mezzi per operazioni di imbarco nonostante la disponibilità alle operazioni da parte della GTG stessa. Gli lavoratori si dicono preoccupati per il futuro anche perché dalla stessa GTC non arriva nessun segnale. La nostra intervista, vediamo. Oggi torniamo a scioperare perché? Perché nei giorni scorsi, per la precisione due giorni fa, è successa una cosa abbastanza inquietante che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Presenti due navi in porto, una nave che stava finendo le lavorazioni con una gru della GTC, con un'altra nave dove servivano altre due operative. Ovviamente ci aspettavamo una chiamata da parte dell'azienda, o meglio ci aspettavamo una richiesta da parte dell'azienda che affidava il lavoro alla GTC. Questo lavoro non è arrivato. Il paradosso qual è? Che questa nave, l'azienda che doveva richiedere i servizi della GTC era Traiana e Traiana ha messo i suoi mezzi e i suoi operatori su quella nave, nonostante ci fosse la disponibilità sia del personale che degli operatori per poterla fare. Questa praticamente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso che ci ha fatto immediatamente, visto lo stato d'agitazione, che sono mesi che è presente, va avanti da parte dei lavoratori, ci ha fatto immediatamente mettere lo stato di sciopero. Non ci sono contatti assolutamente da parte della dirigenza della GTC, ma questa non è una cosa di adesso, è successa la stessa cosa nello sciopero precedente di ottobre. La GTC si chiude il riccio e non parla assolutamente con i suoi lavoratori. Noi ringraziamo il Presidente perché lo sciopero di dicembre è stato evitato grazie a una sua telefonata, era arrivato da tre giorni, ha chiamato i lavoratori in assemblea in viva voce e i lavoratori sentendo il suo interessamento al primo arrivo hanno fatto, insomma praticamente si sono messi la mano sulla coscienza e hanno continuato a lavorare. Il problema nostro è che adesso veramente, con quello che è successo ieri, tra l'altro ieri quella nave era finita, doveva entrare ed è entrata una nuova nave che sembrava dovesse essere scaricata da noi e invece la stanno scaricando loro con i loro mezzi. Non so più quello che devo pensare, il problema grosso è che c'è un silenzio tombale da parte di tutta la comunità portuale, da parte dei soci di minoranza. E ricordo solidarietà, sitin, megafoni e questo non c'è assolutamente. Solidarietà ai lavoratori della GTG è stata espressa da potere al popolo secondo la quale siamo ormai di fronte a palesi ed inaccettabili atteggiamenti di sfida nei confronti dei lavoratori e lavoratrici che ormai da mesi conducono una lotta tenace contro i morsi di una crisi ferocissima e contro quell'odiosa autoproduzione che, come sosteniamo da sempre, non sarebbe soltanto un insulto alla storia della nostra città, ma una spina nel fianco per l'intera portualità italiana. Per questi motivi, affermano da parte di potere al popolo, ci sentiamo di esprimere solidarietà e affetto ai lavoratori e alle lavoratrici di GTG in sciopero. Al contempo, invitiamo il nuovo presidente dell'autorità di sistema portuale, Pino Musolino, a prendere subito una posizione netta ed inequivocabile contro queste preoccupanti e destabilizzanti forzature poste in essere dalla società traiana. È ufficialmente iniziata la stagione degli incassi delle cambiali elettorali. Lo afferma il Partito Democratico in merito alla determina dirigenziale del 30 dicembre, con la quale si avvia l'iter procedurale per l'affidamento a terzi del verde pubblico, fino ad ora in house a CSP. I Dem rivendicano di aver contestato, attraverso la ferma opposizione dei suoi consiglieri comunali, il piano industriale, ritenendolo a ragione, considerando i fatti odierni il preludio ad uno spacchettamento partitario dell'azienda municipalizzata, rispondente a logiche di spartizioni concordate e obbligate piuttosto che alla necessità di salvaguardia del patrimonio pubblico. Il Partito Democratico fa un appello alla mobilitazione di tutte le forze politiche, quelle sindacali e anche le associazioni di categoria, affinché si impedisca che quello che adesso può sembrare un semplice affidamento a terzi non si trasformi in una vera e propria privatizzazione aziendale. La politica sana deve fare la propria parte, opponendoci ad ogni eventuale paventata mira speculativa sul tratto costiero della frasca, facente parte del patrimonio di tutti i civitavecchiesi. Lo sostiene Onda Popolare, che raccoglie lo spunto offerto dal comunicato dell'Associazione Antonino Caponnetto sulla paventata vendita del campeggio della frasca, dislocato su quel tratto di costa ricco di biodiversità, sempre amato da questa città e dai tantissimi fruitori del mare, anche provenienti da tutto l'Alto Lazio e dalla capitale. Come Onda Popolare affermano, stiamo anche predisponendo una forte azione amministrativa ed istituzionale per far luce sulla questione e che vorremmo condividere con tutte quelle compagini politiche a cui sta a cuore l'interesse generale del nostro territorio e della nostra popolazione. Nei giorni scorsi il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione per impegnare il sindaco tedesco e la sua giunta ad informare tutte le associazioni sportive che gestiscono impianti comunali sull'opportunità di usufruire di una proroga delle concessioni in essere fino a tre anni, al fine di attenuare gli effetti negativi causati dalla pandemia in atto. Si tratta di una possibilità offerta dal decreto rilancio, affermano i pentastellati. È necessario che il Comune si faccia parte attiva, offrendo un fattivo sostegno ed equità di trattamento a tutte le associazioni sportive che gestiscono gli impianti di proprietà comunale. Siamo convinti che il Consiglio Comunale non avrà problemi ad approvare la nostra mozione, conclude il Movimento 5 Stelle. Cambiamo decisamente argomento, numeri in forte diminuzione sul fronte Covid. Oggi sono quattro i casi che vengono annunciati da Salute Lazio nel consueto report quotidiano. 11 i guariti con il numero totale dei positivi attualmente attivi in città che scende a quota 208. Al centro diagnostico Buonarroti ieri sono stati eseguiti 84 tamponi rapidi. Sono state riscontrate 81 negatività e 3 positività, pari al 3,57%. I positivi riscontrati sono tutti residenti a Civitevecchia e fra i soggetti coinvolti una maestra di una scuola materna. La notifica è stata inoltrata immediatamente al servizio sociale dell'Asla in modo da poter attivare le procedure previste. Il numero complessivo dei test effettuati è salito a 12.125 e le positività riscontrate sono finora 723, pari al 5,96%. Ma i numeri forniti dal centro consentono anche di tracciare un identikit dei Civitevecchiesi contagiati. Vediamo. Più donne che uomini, preponderanza di persone di mezza età. È l'identikit di quanti hanno finora effettuato un tampone rapido presso il centro diagnostico Buonarroti. Lo si evince dal report che la struttura diretta dal dottor Carlo Tarantino fornisce quotidianamente che fotografa la situazione del coronavirus nel territorio, vista dall'ottica dei tamponi rapidi, detti anche antigenici. Ebbene, dai 12.125 controlli effettuati alla data di ieri sono emerse 723 positività. Di queste, 365, pari al 50,5%, erano donne, mentre 358, ovvero il 49,5%, erano uomini. 649 dei 723 soggetti risultati contagiati erano appartenenti al distretto 1 della ASL, che comprende Civitevecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere. La suddivisione tra i quattro comuni vede ovviamente una preponderanza di Civitevecchia con 501 casi, a seguire Santa Marinella con 117, Tolfa con 21 e Allumiere con 10. Pochissimi bambini e ragazzi che sono risultati positivi. Solo 89 soggetti di età compresa tra 0 e 19 anni hanno infatti contratto il Covid-19. Tra questi, 9 avevano un'età compresa tra 0 e 5 anni, 37 avevano un'età compresa tra 6 e 13 anni, 43, infine, avevano un'età compresa tra 14 e 19 anni. Tra gli adulti, assoluta preponderanza di persone di età compresa tra 41 e 65 anni per un complessivo 50,9%. Seguono i giovani e i adulti, ovvero le persone di età compresa tra 20 e 40 anni con il 29% e gli anziani, soggetti di età superiore a 66 anni con il 20,1%. Si tratta di numeri che non si discostano di molto da quelli che erano stati osservati esattamente un mese fa quando il numero dei tamponi rapidi effettuati era di poco superiore a quota 7.500. Rispetto ad allora, è percentualmente aumentato il numero delle donne contagiate, così come quello dei giovani adulti e degli adulti in genere, mentre è diminuito quello degli anziani. Il bando per gli eventi commerciali del 2021, come ad esempio la fiera di Santa Fermina, è in via di preparazione. Lo annuncia l'assessore al commercio Emanuela Di Paolo. Se sarà possibile organizzare eventi e fiere, afferma Di Paolo, dipende dall'andamento della pandemia e dalle conseguenti decisioni del governo. In attesa abbiamo comunque cominciato a lavorare con l'aiuto e l'importante sostegno delle associazioni di categoria. Faremo tutto il possibile sempre nel rispetto delle norme che usciranno di volta in volta. È attivo lo sportello famiglia all'interno del Tribunale di Civitavecchia, un servizio gestito da operatori specializzati per far fronte alle criticità emergenti per quanto riguarda il costante aumento dei casi di separazione e divorzio giudiziale, affidamento di figli non matrimoniali e modifica delle condizioni di separazione, divorzio e affidamento di figli nati fuori dal matrimonio ed altre situazioni simili. Lo sportello servirà il seguente orario lunedì dalle 10 alle 13, martedì dalle 14 e 30 alle 17 e 30 e poi riservato agli incontri con i genitori venerdì dalle 9 alle 12. Cambiamo pagina, prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 condotta dall'Asla Roma 4. Ieri in tutta l'azienda sanitaria si è superata la quota 4.000 vaccinazioni, 4.120 per la precisione le persone che hanno già avuto la somministrazione del farmaco della Pfizer. Di queste oltre 1.000 sono residenti a Civitavecchia, dove ieri, oltre alle vaccinazioni effettuate nel centro allestito presso l'ospedale San Paolo, gli operatori hanno anche raggiunto gli ospiti della casa di riposo Santa Rita. E proseguiamo la nostra mini-inchiesta sulle vaccinazioni sentendo il parere di altri cittadini. Vediamo. Che ne pensate del vaccino per il Covid? Io personalmente, se dovessi scegliere, no, non me lo farei. E' ovvio che comunque... C'è qualcosa che la frena in particolar modo. Ma diciamo che tendenzialmente io non sono tanto per i vaccini comunque, di mio già. Comunque è giusto che si faccia questa campagna di immunizzazione giustissima, è giusto che la gente risponda bene. Magari, ripeto, se mi metto in condizioni lo farò anch'io, però ora come ora no. Non sono una delle prime che va in ospedale a fare il selfie con il braccio scoperto, quello no. Io credo che sia l'unica arma per sconfiggere questo virus. Capisco che si ha anche un po' paura, ma se finisce questa pandemia preferisco vaccinarmi. Voi siete dello stesso avviso? Sì, sì. Anche per me così la penso, sì. Che comunque farà bene che magari finisce questa situazione. Preferisco correre il rischio, anche se non mi fido tanto, però mi vaccinerei. Ci state pensando nel momento di discussione che affrontate spesso? Sì, ci pensiamo spesso. Ma penso che sia una cosa utile, credo, anche perché poi dobbiamo vedere i suoi effetti, insomma. Purtroppo il virus c'è, in qualche maniera tocca sconfiggere. C'è chi è a favore e chi no, anche perché in breve tempo è uscito questo vaccino, anche ancora non è sperimentato, diciamo al 100%, però credo che bisogna farlo. Ma speriamo che tutti lo fanno. Però vedo qua ogni tanto ci stanno ancora assembramenti, ancora senza mascherina. Ognuno si deve fare l'affare suo, perché se tu vai a dire a questa persona, mettiti la maschera, ti rispondi pure male. Qui parecchi giovani ancora non hanno capito che c'è stesso pericolo. Non parlo per loro, ma parlo per quelli che stanno a casa, i genitori, i nonni. Quindi se i giovani, se tu vai adesso giù per Civita Vecchia e chiedi al Forte Michelangelo, ci stanno assembramenti dei ragazzi senza maschera, senza niente. Ma che gli dici? Il controllo non c'è. Quindi se non c'è il controllo che si fanno come gli pare? A discapito nostro, che ci abbiamo ormai, diciamo, andiamo per la terza età. Bisogna che ci rispettiamo a vicenda. Penso che sia la cosa giusta. Poi, che gli devo dire? Appunto, allora dico, arriviamo al vaccino, così il vaccino ci lascia liberi, ci sconfigge questa malattia, se tutti ci vacciniamo. La sezione Civita Vecchia della FIDAPA indice il concorso artistico letterario Giussi Gurrado 2021, in ricordo della socia fondatrice Giussi Gurrado, nota ed appassionata esponente dell'associazionismo. purtroppo prematuramente scomparsa. Il concorso, rivolta alle donne ed anche alle minorenne delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, e alla sua terza edizione presenta alcune importanti novità. Una sezione dedicata alla fotografia, una sezione dedicata all'infanzia, che comprende opere di narrativa, filastroche e poesia. La partecipazione è gratuita e possono essere presentate opere a tema libero. Il lutto in città per il mondo dello sport e del commercio è scomparso nelle scorse ore, Carlo Paielli, commerciante molto conosciuto in città per essere stato per tanti anni il presidente della Pro Campo Oro. Numerose le autorità che hanno voluto ricordare un volto noto dello sport Civita Vecchiese che si è sempre distinto per la passione profusa. Un destino beffardo quello di Paielli, visto che la sua scomparsa è arrivata a pochi giorni dalla presentazione del progetto per la riqualificazione del campo Saraudi, per moltissimi anni proprio casa della Pro Campo Oro. L'affidamento dell'impianto gli fu revocato tra le proteste dello stesso Paielli, che arrivò addirittura ad incatenarsi al cancello del Saraudi. I funerali di Carlo Paielli si svolgeranno venerdì alle 15 alla chiesa di San Giuseppe di Campo dell'Oro. Veniamo ora alla pagina sportiva che apriamo con il basket. Il 7 marzo è l'ultimo giorno utile nel quale potrà essere consentita la ripresa dei campionati regionali di basket. È quanto scaturito nel corso dell'atteso incontro che ha visto di fronte il presidente della Federazione Italiana, Pallacanestro Gianni Petrucci e il presidente dei comitati regionali. La Federazione si è impegnata intanto a varare un nuovo protocollo da far osservare alla ripresa delle attività. Vediamo il servizio. La Federazione Italiana Pallacanestro sta lavorando per consentire a tutti i propri tesserati, dal mini basket all'attività senior, di tornare ad allenarsi in palestra adottando tutte le cautele che gli esperti riterranno necessarie. È quanto si legge in una nota emessa dal presidente Gianni Petrucci al termine dell'atteso incontro svoltosi lunedì pomeriggio con i massimi rappresentanti dei comitati regionali e nel corso del quale si sarebbe dovuto dare il via libera alla ripresa dei campionati di Serie C Gold, C Silver e di quelli nazionali a livello giovanile. In realtà nel corso del lungo confronto è emersa la volontà da parte di quasi tutti i rappresentanti regionali di voler riprendere l'attività nella sua interezza e non solo dei campionati più importanti. Nella nota della FIP si legge quindi che lo stato pandemico richiede provvedimenti straordinari e che la Federazione vuole andare oltre la suddivisione in attività di interesse nazionale e non, che fino a questo momento ha creato situazioni disomogenee e paradossali, fra tutti gli enti deputati all'organizzazione sportiva e frustrazione nelle giovani e nei giovani di tutte le discipline. Occorre concentrare gli sforzi, conclude il documento della Federazione Palacanestro, sull'aggiornamento dei protocolli che consentano a tutti la ripresa in sicurezza degli allenamenti, a prescindere dallo svolgimento delle rispettive competizioni, verificando con la massima responsabilità quali altri campionati possano effettivamente prendere il via nel prossimo futuro. Insomma, una nuova frenata dopo il tanto ottimismo che aveva caratterizzato l'annuncio dell'inserimento di C Gold e C Silver tra i campionati di interesse nazionale del CONI. L'inizio dei due tornei sembra quindi destinato a slittare rispetto alla previsione di metà febbraio e si parla già di una deadline fissata al 7 marzo. Se per quella data i tornei non saranno iniziati, la stagione sarà definitivamente annullata. Vediamo la palla nuota a tre giorni dal via del campionato di A2 maschile, a cui prenderà parte l'Enel e l'SNC. La federazione ha reso nota la formula di playoff e playout. Ai playoff promozione parteciperanno le prime due classificate dei quattro gironi in programma semifinali e finali, tutte al meglio delle tre partite. La novità più importante riguarda però i playout. Per aumentare il numero di incontri da disputare per ogni squadra, parteciperanno agli spareggi salvezza tutte le squadre, dalla terza alla sesta posizione di ogni girone. Il cammino inizia con le semifinali, quelle perdenti disputeranno poi le finali che valgono la permanenza in A2. Come i playoff, anche le serie dei playout saranno al meglio delle tre partite. Anche per il campo di calcio A5 di San Liborio si prospetta un rinnovo della concessione. Infatti il sodalizio San Liborio, che gestisce la struttura di via Giulio Cerruti e dove svolge la propria attività all'Atletico Tirrena, ha chiesto al Comune di rispettare quanto stabilito dal decreto rilancio per gli impianti sportivi. Così come è accaduto per la piscina comunale che rimarrà alla Coser, anche il campo di calcio A5 seguirà lo stesso ITER, con l'Atletico Tirrena del presidente Ermanno Moneroni, che potrà così continuare ad avere come casa questo terreno di gioco. Il delegato allo sport, Matteo Iacomelli, ha già dato il suo benestare per il rinnovo automatico della concessione, che può essere allungata fino a tre anni, come già dicevamo. Ed ora passiamo ad una segnalazione che ci arriva da Campo dell'Oro. Un telespettatore ha contattato la nostra redazione per segnalare che al parco di via Veneto, da poco riaperto, ci sono molti rifiuti abbandonati che non vengono portati via. Inoltre il telespettatore fa notare che diversi padroni di cani non fanno indossare il guinzaglio ai loro cuccioli, con tutti i disagi che ne conseguono. Come di consueto giriamo la segnalazione agli organi competenti. E termina con questa segnalazione, questa edizione del TRC Giornale Serale. E prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci come sempre anche sui nostri canali social Facebook, YouTube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguire ancora i nostri programmi dopo questo telegiornale. Buon proseguimento di serata in ogni caso. Grazie a tutti.